Coronavirus. Gli asintomatici non contagiano. Lo studio cinese. Gli asintomatici con coronavirus covid-19 non contagiano, ma in Italia ci si ostina a negare le evidenze scientifiche. Perché? Un nuovo studio effettuato in Cina da famosi ricercatori affermerebbe che gli asintomatici con coronavirus. Non contagerebbero o avrebbero scarsa carica virale. Questo quindi appare come un grosso guaio per quelli del Comitato Scientifico Italiano che sono consiglieri del governo dove troviamo addirittura persone coinvolte nell'immissione di vaccini obbligato. A RAI o membri dell'illegale patto trasversale per la scienza, o per la mafia medica. Guai in vista per queste associazioni. O se ne usciranno semplicemente con qualche articolino atto a smentire chiare evidenze scritto dai soliti noti della disinformazione che si spacciano per antibufale. Quando invece le bufale le creano? Staremo a vedere. Perché se la magistratura interviene credo che gli arresti in Italia tra medici e politici sarebbero veramente in tanti. Ricordo che il famoso medico dello Spallanzani di Roma. Un certo Francesco Vaia. Anni fa. Fu tratto in arresto per una truffa alle AS per 82 milioni di euro. E quell'ospedale. Lo Spallanzani. È quello dove si è fatta la fitogenesi del virus affermando che sia quello cinese. Passando poi la palla al sacco di Milano, a un certo Galli, per poi poter diffondere queste informazioni agli altri stati membri dell'UE, da un certo Ricciardi. Conosciuto molto bene in Italia per aver immesso altri quattro vaccini obbligatori, per i suoi conflitti di interesse, e per le sue dimissioni da presidente dell'ISS. Il Vaia Francesco in queste ore è impegnato con i vari complici dei giornali. Pennivendoli prezzolati, a rilasciare interviste da panico affermando senza vergogna che il virus non sia scomparso, ma che si sia nascosto. Quando è risaputo che i coronavirus mutano o scompaiono completamente in estate. Si tenta quindi di nascondere assolutamente la parola mutazione con altre parole più convenienti all'attuale teatrino messo su da questi esponenti. Se queste non sono già delle prove della loro colpevolezza e della loro malafede. Non saprei, ma il semplice fatto di continuare a dire che il virus c'è perché vi sono molti asintomatici, mi sembra una bugia colossale. Ma primo perché siamo stati tutti chiusi in casa. E secondo, asintomatico vuol dire che una persona è malata ma non ha sintomi, già la cosa è molto strana di suo, ma questi asintomatici, non guarirebbero mai. Guarisce chi mostra serie patologie, e non guarisce chi non le mostra. Mi sembra che ci sia una fine pari per entrambi, non è forse lo stesso virus. E credo che questi dottivendoli debbano mettere la parola a fine anche ai loro business. Perché cadono veramente tanto nel ridicolo loro, e i pennivendoli prezzolati aziendali che li seguono e sostengono a spada tratta per ovvi interessi. La ricerca la potete ottenere in questo link. Uno studio scientifico cinese dimostra che l'infettività degli asintomatici positivi al covid-19 è nulla o molto debole, in realtà nessuno dei 455 soggetti testati si è infettato. L'avevo già tradotta. Questo voleva essere un sequel sugli ultimi aggiornamenti dei pennivendoli, e un po' una spiegazione sul perché queste persone a mio avviso siano molto disoneste, e appaiano poco credibili. Perché uno più uno fa due. Se gli asintomatici non contagiano, da dove sarebbe arrivato questo virus? Ma soprattutto, perché ci hanno chiusi in casa affamandoci e fermando la produttività italiana. Pandemic Bond. Raccolte fondi. Corona Bond. Aiuti dal MES. Aiuti dalla Banca Mondiale e dalla Banca Europea. Queste cose le denunciamo nelle pagine Facebook da gennaio. Vi lascio anche questa simpatica foto satirica che va a semplificare umoristicamente quello che ho scritto sopra. Nella foto Francesco Vaia, Spallanzani Roma, e Walter Ricciardi consigliere per le relazioni dell'Italia con gli organismi sanitari internazionali. Condividete questo articolo barra inchiesta se vi sembra interessante e utile. Noi siamo ancora bloccati da Facebook, e ognuno di voi potrebbe fare la differenza. Coronavirus.